Ciao, io sono Ale, benvenuti, benvenuti in questo mio nuovo video. Questa sera sono qui per portare anche io lo speed painting, mi sono deciso di portare questo tipo di video dopo un po' di tempo perché effettivamente ormai sta girando da qualche mese ma con i miei tempi sono arrivato. Però ho deciso di portare una versione che apprezzo maggiormente e che spero piacere anche a voi. Ecco, non ho mai visto una versione fatta così, però ecco voglio cercare di spiegarvela prima di registrarla. Siccome io adoro il trigger uditivo diciamo dello speed painting, quindi il suono, i mouth sounds ma non tanto, il suono, c'è notato, scusate, il trigger visivo, no? Quindi ho preferito farlo con una luce super 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 bassa e soffusa in maniera che valorezzi, se siano valorezzati maggiormente i trigger visi e i cuti, e l'air tracing, gli hand movements che andrò a fare e il suono dei mouth sounds pure, e non tanto invece insomma il processo dello speed painting che non mi fa impazzire appunto visivamente. E poi appunto devo dire che non dispiace portare un altro video alla buia nonostante ne abbia portato uno di recente, perché so che a voi, a molti di voi piacciono perché ho ricevuto dei commenti positivi, ecco. Ma ora direi che posso iniziare con il nostro speed painting delicato al buio con l'attima mouth sounds. e potete, ma anche se possano che prendere tutto il nostro corso, ma ora direi che c'è un progetto ombre poi perché lo stesso è che c'è un progetto, cioè qui l'è chiudere l'acquaiera chiudere l'acqua barrata e un progetto e lo stesso! Sprello, c'è un progetto e un progetto! grazie a tutti no Buon appetito! grazie Sì no Sì a presto 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 a presto